buonasera ragazzi buonasera un saluto da parte di bianconero man e bentrovati allora lo sapete no bremer è un nuovo giocatore della juventus dopo pogba dopo di maria altro giocatore che arriva alla juve questa volta la juve fa un bel colpo anche a livello economico sono circata una cosa e l'altra un'operazione a circa 50 milioni tra soldi che mi danno al torino e stipendi al giocatore che percepirà uno stipendio di circa 6 milioni di euro l'anno per cinque anni quindi non c'è che dire la juventus sta lavorando veramente molto 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 bene a questo mercato estivo e non è ancora finita e non è ancora finita però qua io vorrei fare un discorso a parte allora lo scorso anno avevamo una rosa tra virgolette non molto forte si può dire scarsa ok io ho difeso l'anno scorso a spada tratte il mister maxallegri l'ho difeso perché comunque allenava giocatori scarsi adesso la dirigenza sta lavorando molto bene e ripeto il mercato non è ancora finito ma sta lavorando molto molto bene e quindi caro max adesso non è più scuse non è più scuse ok perché la dirigenza si sta accontentando e tutto e per tutto hai voluto di maria e te l'ha preso hai voluto pogba e te l'ha preso anche se sono giocatori arrivati a parametri zero comunque te l'hanno presi hai voluto bremer perché lo so perché l'obiettivo vero è la culibali poi culibali si è casato al celsi di conseguenza bremer in questo momento in italia forse è uno dei profili migliori forse te l'ha preso arriverà a zagnolo e sicuramente arriverà un altro centrocampista poi se in difesa dovesse arrivare anche milenkovic perché penso che la juventus non si fermerà solo a bremer ovviamente perché comunque sì c'è gatti ma gatti non lo puoi buttare in prima squadra c'è bonucci c'è rugani io penso che un altro difeso centrale arriverà e se arriverà milenkovic sarebbe tanta tanta roba quindi caro allegri si stanno accontentando in tutto e per tutto quindi dal prossimo anno non ci sono più scuse basta vedere quegli spettacoli di merda visti lo scorso anno basta è ora di far vedere veramente di che pasta sei fatto perché la società si sta accontentando in tutto e per tutto bremer è un grandissimo colpo è un grandissimo colpo bremer comunque tu prendi un ragazzo giovane brasiliano sicuramente ti sistemi in difesa per un bel po di anni e poi dovesse fare anche milenkovic sono due ragazzi che in due fanno 40 anni quindi diciamo che saremmo a posto per dieci anni in difesa è già un reparto difensivo con pellegrini milenkovic bremer e danilo forse forse comincia a piacermi con danilo che giochiamo può giocare anche centrale poi c'è gatti c'è bonucci e quindi il reparto difensivo arrivasse anche milenkovic devo dire che sarebbe veramente a posto veramente a posto centrocampo arrivasse anche zagnolo si fa anche il nome di paredes con suppongo con zagnolo e pogba zaccaria renta mckenny con zagnolo che potrebbe giocare anche come esterno no dando anche il riposo a di maria quindi ripeto a juve ti sta accontentando in tutto e per tutto adesso tocca a te tocca a te non c'è più scuse ok se no poi io devo dar ragione agli anti allegrani che dicono che non sei un allenatore bravo ma io di questo sono convinto che non è vero perché sei un grande allenatore e farai delle gran belle cose quest'anno ne sono più che sicuro detto questo ragazzi io vi saluto vi auguro una buona serata con questa bomba serale di bremer nuovo giocatore della juventus ciao ragazzi fino alla fine